Ciao ragazzi, qui al mio canale è Giovanna Calisso, TTSO Creatività. Vi farò vedere un altro video trailer riguardo a mamma o papà che uscirà il 14 febbraio 2017. Buona visione a tutti voi! E così è la vita? E i ragazzi come l'hanno presa? Cosa? Nel migliore dei modi possibili. Sono estelefanto. Lo faccio trasferire in Svezia. Amreff parte per i mari. Devi partire tu. No, perché devi rinunciare tu? Chi parte? Io. E chi accudesce, ragazzi? Lei. O vi mettete d'accordo o saranno loro a decidere se stare con mamma o papà. Allora vuoi la guerra? Sei tu che vuoi la guerra. Sì, voglio la guerra. Non male che sento aria. Non toccare che ora lo parecchi. No, no, ma parecchi cosa? Parecchi? Fammi vedere. Papà, possiamo tornare a casa adesso? Tesoro, è importante che io e te parliamo. E dobbiamo farlo proprio qui. Quello di cui avete bisogno ora è di un punto di riferimento paterno. Se ti metti con questo mi trovo. Questa è casa nostra. Noi abbiamo deciso, vogliamo stare tutti con papà. Cita. Ma chi ha dato lo schiaffo? E con queste sono due. Vai Giulietto, fallo nero, chiaffo. Lei si preoccupa del seno. Ha paura che le venga come il mio. Mamma! Guarda. Aiuto! No! 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 Grazie.